E si riparte! Altro giro, altra corsa. Lunedì 20 maggio 2019, l'ultimo giorno del toro. Non riesco a respirare. Stasera voglio prendere il camilla e andatevi a mangiare una pizza, ma non startemi a casa a deprimerti sul divano. Pomba, noi ci andiamo a mangiare una garbana da otterre, perché la mia nipoli... Ci sono pettiti di polno in frigo, quelli poi se non li mangio io li hanno buttati. Beh, come festeggi oggi? Faccio una canna, ma... Io non sono la tua ragazza, non voglio essere trattata come fa. Pregami il regalo, i miei com'è il regalo... Ma ma fa un culo! Io già non ce l'ho voglia di festeggiare il compleanno mio. Se proprio lo devo festeggiare, lo festeggio con gli amici miei. Ma allora devo festeggiare a fa' un culo leopardi, alai! Come fa' un culo leopardi? Rispondi, regali! Ehi! Lo zì, quanto ti serve? Mille euro. A te non è mai capitato di innamorarti così per caso di uno sull'autobus? Ma calco! Acqua ancora! E' mai capitato! Oh! Ho fame! A tuo compleanno? Ma... Tu non sai nulla di me! Io ci ho messo una vita ad essere ciò che sono! E non permetto a nessuno di prendere a sassate la mia persona! Ragazzi, io vado a dormire! Ma cosa vuoi dormire? Dai! Non ti piace fare una cosa! Tolfio, non ti fidanzerei mai! Non ho tempo, però lo trovo! Non ho mai tempo, però lo trovo! Tu che mi ride in faccia!